Prosegue e si consolida per il futuro la collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Camera di Commercio. È stato infatti rinnovato l'accordo sottoscritto tra le due istituzioni l'11 maggio 2021, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni con il mondo imprenditoriale e soprattutto con le aziende che operano con l'estero attraverso la realizzazione di eventi formativi ed informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese. Ricordiamo che siamo in un momento di grande trasformazione a livello doganale, è in corso il processo di riforma del codice doganale dell'Unione, è stata da poco approvata la legge di riforma del testo unico sulle leggi doganali e soprattutto siamo in un momento di grande trasformazione dal punto di vista dell'informazione e dello sviluppo tecnologico anche nelle procedure doganali, per cui è assolutamente importante raggiungere tutto il sistema imprenditoriale per poter, ripeto, fornire l'assistenza necessaria. Ricordo la nostra altissima vocazione verso l'airsport come territorio provinciale che vede appunto la presenza di distretti manifatturieri importantissimi e quindi hanno necessità, consulenti, operatori, di sostenere e accompagnare le imprese in linea con quelle che sono le novità normative sempre attuali. Lo facciamo per tanti settori, ovviamente l'oro in primis, ma lo facciamo per il settore del made in Italy, della moda, lo facciamo per il settore agroalimentare, del vitivinicolo, tanto per citarne alcuni che sono ovviamente i comparti principali del nostro ambito camerale, quindi Arezzo e Siena. E ovviamente lo facciamo con la competenza e l'assistenza appunto dell'Agenzia delle Organe dei Monopoli che insieme a noi, insieme a Promosia in Arezzo, ovviamente organizza delle giornate di studi, di approfondimento, di seminari per poter mettere a disposizione tutte le notizie necessarie delle nostre imprese per poter affrontare i mercati e ovviamente vincerli come i numeri appunto ci dicono visto che il territorio della nostra Camera riesce a coprire oltre un terzo delle esportazioni regionali che quindi diventa davvero strategico e importantissimo.